Buonasera, benvenuti a Conto alla rovescia. Nella prima parte ci occuperemo del capoluogo di Regione e nei nostri studi ci sono quattro esponenti, Antonio Vinci Guerra, consigliere comunale di maggioranza del Movimento 5 Stelle, Salvatore Colagiovanni, anche lui consigliere comunale dei Popolari per l'Italia e un altro esponente del Movimento 5 Stelle, la signora Pina Di Olio e Alberto Tramontano, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Nella seconda parte ci occuperemo di quello che è accaduto nell'ultima seduta del Consiglio regionale, soprattutto con il problema della surroga, con le dimissioni motivate da parte di Vincenzo Niro, è entrato di nuovo in Consiglio Filoteo Di Sandro, mentre Tedeschi è rimasto fuori. E in ultimo anche le dimissioni dell'assessore Mena Calenda e nella seconda parte avremo la stessa ex assessore Mena Calenda insieme a Quintino Pallanti, assessore, e Andrea Di Lucente, consigliere regionale. Allora, io inizierei con Antonio Vinci Guerra. Sono trascorsi quattro anni, più luci o più ombre secondo lei, sia sincero. Direi che sono stati quattro anni luminosi, nonostante le difficoltà, perché purtroppo, questa è un'evidenza, si è potuto lavorare solo per circa due anni. La pandemia ha bloccato qualsiasi attività, ha bloccato i cantieri, ha bloccato i progetti. Sicuramente poi, dopo la pandemia, i fondi del PNRR ci hanno dato un'opportunità, ma ciò non toglie che per due anni si è potuto fare davvero poco. Nonostante questo, abbiamo cercato di lavorare con costanza, abbiamo cercato di recuperare più fondi possibili per tutti i progetti della città e abbiamo realizzato anche qualcosa di bello per Campobasso. Con la Giovanni, lei che giudizio dà l'amministrazione Gravina? Ma, quello che diceva il capogruppo dei Cinque Stelle, non è da un'età, due anni di Covid hanno paralizzato il mondo, quindi hanno anche l'amministrazione comunale messo nell'impossibilità di poter svolgere e perdere, secondo me, anche i voti. Sì, quindi avremo tempo questi altri 12-13 mesi per vedere, oltre ai fondi PNRR, che sono piacevolmente colpiti. Abbiamo fatto una commissione qualche giorno fa con uno dei parchi di Campobasso, dove l'assessore Praetano, diceva, avevano candidato il parco di Varemanzoni su due progetti, i due progetti sono stati vittoriosi, quindi dare un giudizio sull'amministrazione, da consiglio d'opposizione, mi porterebbe a dire che questa amministrazione ha avuto delle difficoltà, ed è giusto intellettualmente dirlo, ma da qui la scadenza di mandata manca più di un anno, perché penso che si potrà a maggio del 2024, vedremo come effettivamente i 5 Stelle saranno impostare la vera linea di governo a livello cittadino. Ecco, Diorio, secondo lei qual è stata la maggiore criticità che avete incontrato in questi quattro anni? Mettiamo da parte il Covid, perché lo ha detto già con la Giovanni, sul fatto della concretezza, proprio delle azioni da portare sul campo. Sicuramente sì, giustamente è inutile riprendere la parte del Covid, perché è un dato di fatto, sicuramente criticità le abbiamo avuto sulle scuole, ma è qualcosa che abbiamo portato anche da prima, dalla vecchia consigliatura. Sicuramente si può fare sempre di più e si può andare avanti cercando comunque di migliorare anche grazie a tutti i fondi che sono arrivati dopo questa situazione pandemica, che ha visto un po' comunque coinvolto tutta l'Italia, tutti i capoluoghi, tutte le regioni. Sicuramente quindi, come ho detto, le scuole, ma credo che poi alla fine possiamo tranquillamente dire che, almeno a mio giudizio, il bilancio è comunque positivo di quello che abbiamo raggiunto. Alberto Tramontano, lei chiedia se è fatta di questi quattro anni di gestione pentastellata? Un'idea a tinte chiaro-oscure, nel senso che sicuramente l'avere intercettato tanti finanziamenti non è un risultato importante. Noi dell'opposizione, chi vi parla, ma anche il collega Salvatore con la Giovanni, non abbiamo mai tifato contro la nostra città, la nostra amministrazione, quindi abbiamo sempre apprezzato e sottolineato la bontà di queste opportunità. Però, se dobbiamo fare un bilancio a quattro anni, sicuramente il Covid c'è stato e non lo possiamo negare, però presentarlo sempre come l'alibi, diciamo così, sulla mancata realizzazione e la concretizzazione di iniziative e di progetti, credo che non sia corretto. Ad oggi, dopo quattro anni, nonostante i finanziamenti, mai l'amministrazione comunale di Campobasso, io sono in amministrazione da quasi vent'anni, ha avuto tante disponibilità economiche, però ad oggi, se chiediamo ai colleghi di elencarci delle opere compiute, concrete, realizzate, seppur ereditate dalla passata amministrazione, credo che farebbero fatica e considerando i tempi anche dell'amministrazione e delle procedure, anche per i finanziamenti già incamerati, per i progetti definitivi ed esecutivi approvati, diciamo così, anche per questi progetti temiamo che li vedremo realizzati, secondo me, molto lontano nel tempo. Quello che rimprovero io, ma diciamo così, è legato anche alla mia sensibilità di politico, di amministratore, in base alla mia esperienza, io credo che ci sia poca anima. Cioè anche il sindaco di Campobasso, che comunque fa il suo lavoro, ha il suo stile comunicativo, il suo stile anche relazionale, credo che abbia peccato nei rapporti con chi doveva in qualche modo accompagnarlo nella sua avventura, non mi riferisco solo naturalmente alla maggioranza, perché lo ripeto, in un comune, diciamo così, anche i consiglieri di minoranza, molto spesso hanno buona volontà, disponibilità, hanno esperienza che potrebbero mettere a frutto, e credo che il sindaco abbia perso un'occasione, cioè non abbia avuto la volontà, non so se la capacità, non so se è legata al suo carattere, di coinvolgere le opposizioni anche nell'azione amministrativa. Credo che abbia perso un'occasione, perché lo ripeto, ci sono tanti consiglieri all'opposizione con una buona esperienza, anche con una buona sensibilità, che non tifano contro la propria città, ma vogliono, diciamo così, operare perché la nostra comunità stia bene. Questo è il fine degli amministratori seri. Ma perché secondo lei non c'è stato dall'inizio un feeling con gli esponenti del Partito Democratico? Cioè, sono proprio messi di traverso a gravina. Lei che idea si è fatta? Diciamo, la mia è un'idea abbastanza chiara, anche frequentando in modo molto attivo le commissioni, anche i consigli comunali, noi vediamo che c'è un rapporto davvero elettrico tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, ancor più forte con coloro che dovrebbero avere una posizione di opposizione più connotata. Io credo che, diciamo così, le scorie della passata amministrazione a guida del Partito Democratico, il passaggio da questa amministrazione all'amministrazione 5 Stelle, credo che abbia lasciato comunque, diciamo appunto, delle scorie che non sono state ancora filtrate e digerite. E questo secondo me la dice lunga anche sulle possibilità concrete di questa eventuale alleanza che si paventa tra il Movimento 5 Stelle a guida Conte e adesso il Partito Democratico a guida Schlein che dovrebbe far presagire un avvicinamento. Noi che viviamo in questo contesto riteniamo che a livello locale sia molto complicato. Lei forse ha introdotto qualcosa che sta facendo molto discutere perché con l'elezione del nuovo segretario del Partito Democratico si sono rotti gli argini. Vale a dire, prima era Conte che dettava forte la sua agenda in campo nazionale, ora invece sembra che la Schlein stia rosicchiando molti consensi, la domanda che faccio a Vinci Guerra, molti consensi al Movimento 5 Stelle. Nei sondaggi, infatti, gli ultimi sondaggi i greener stanno in forte calo, mentre il centrodestra continua a crescere e nel frattempo, in seguito alla vittoria di Eli Schlein, il Partito Democratico riprende forza ai danni proprio della galassia gialla. Per Giuseppe Conte torna l'incubo di sprofondare ancora più. Che cosa accadrà da qui alle prossime elezioni regionali, secondo lei? Sicuramente non abbiamo la palla di cristallo e certe cose sono imprevedibili, ma come accade un po' per tutti gli schieramenti e i partiti politici, insomma, ci si trova spesso davanti a parabole. Sicuramente quello del momento del movimento è difficile. Sicuramente, lo spero, tornerà a risalire. Se l'elezione della nuova segretaria del PD sarà poi così positivo da riportare in betta il Partito Democratico, questo non lo so. Però sta di fatto che negli ultimi anni quanti segretari ha cambiato il PD. Ecco, anche perché tenga presente che le dinamiche del voto delle regionali sono ben diverse da quelle della politica e lì alle elezioni regionali. il Movimento 5 Stelle è destinato a non avere quei voti che ottiene alle politiche. L'ultimo esempio si è votato lo scorso anno in Sicilia, lo stesso giorno. 5 Stelle è preso il 30% alle politiche, mentre alle regionali si è dimezzato il 15% temete che anche in Molise possa avverarsi una cosa del genere. Sicuramente a livello nazionale si fanno diversi calcoli per le politiche, per le europee, addirittura, e per le regionali. Rimanendo in ambito regionale, sicuramente ragionando, è intuibile che andare da soli è la strada più difficile. Però d'altra parte le grandi coalizioni ci hanno insegnato che servono a vincere, ma non a governare. Se vogliamo, le ultime legislature regionali lo dimostrano molto bene. Con la Giovanni invece il centrodestra, come si presenta alle prossime regionali? Lei lo ha già annunciato in tempi non sospetti, sarà anche lei uno dei protagonisti alle prossime regionali. Se sarà compatto sarà un punto di vantaggio a vostro favore? Io credo che se si vuole dare la regione Molise al PD o al Movimento 5 Stelle bisogna non trovare l'unità. I 5 Stelle fanno finta di non voler capire, ma a livello nazionale secondo me il segretario del PD e il già Presidente Conte hanno capito che andando insieme possono mettere in difficoltà perché come diciamo poco anzi le regionali non sono le nazionali. Lo dice nel 2018 quando nel marzo ci fu l'elezione di quattro parlamentari di 5 Stelle, non li elengo perché li conoscete tutti, e poi nell'aprile ci fu la vittoria di Donato Tocco. Dopo due mesi? Diciamo dopo 50 giorni neanche. Questo comportava ad un percentuale di aventi diritto al voto in Molise del 73% nel mese di marzo e del 53.8% nel mese di aprile. Quindi il regionale è una partita a sé e credo che a livello nazionale bisogna fermarsi, riflettere, per fare una coalizione che possa realmente sfidare il PD e i 5 Stelle se si uniscono in matrimonio. Io lo spero perché sarà una campagna etorale ancora più facile prendere voti portando le frasi che i 5 Stelle e i PD si dicono non in consiglio, ma si sono dette su tutta la regione, con i loro candidati. Io mi ricordo sempre che Di Maio e Di Battista all'Arino dissero che erano il movimento che dovevano rivoluzionare in Molise. Mi dispiace che se ne sono andati perché nei loro dibattiti era spesso frequente il mio nome, le comunali di Campobasso. spero che qualcun altro se lo impari. Credo che comunque, come diceva il caporuppo di 5 Stelle, vincere è facile andare in coalizione, ma se la coalizione regionale fosse PD 5 Stelle, la vedo veramente difficile, molto più difficile di frattura e Tom ha messo insieme. Per quanto riguarda le prossime regionali, vorrei farle questa domanda. Il risultato delle ultime regionali in Lombardia e Lazio hanno decretato il successo del centro-destra in quanto i tre poli dell'opposizione, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Azione Italia-Liva, si sono divisi, quindi hanno fatto una guerra tra di loro. Al di là del fatto che le elezioni si vincono ragionando su chi prende un modo più dell'altro, perché se si pensa ad altri discorsi poi si va incontro a un suicidio politico. Lei ritiene che l'accordo, perché Slein è molto propensa a fare l'accordo con il Movimento 5 Stelle. Questo accordo qui in Molise possa portare benefici? Sicuramente sì, come si stava dicendo, in qualche modo correre da soli potrebbe essere magari un po' difficile, specialmente per il momento che sta vivendo il Movimento. Credo che sarà più facile diciamo qualizzarsi, allearsi, ma sono dinamiche che sicuramente sia il nuovo segretario del PD che il già Presidente Conte prenderanno in considerazione per sicuramente contrastare il centro-destra alle prossime regionali. Questo è il mio pensiero. Ecco, quindi lei è pienamente d'accordo su questa fusione elettorale. Anche se se uno dovesse dare uno sguardo a quello che è accaduto in questi anni al Comune di Campobasso... Sicuramente, è stata diversa la situazione. Però credo che in qualche modo sicuramente verranno dettate dal nazionale quello che succederà tra le varie alleanze. Però sarà più semplice forse. Ma mai dire mai, è possibile anche come di cui parlava prima il capogruppo Vinci Guerra, magari anche andando da soli si può arrivare a qualcosa, aggiungere a un risultato. Allora, Alberto Tramontano, lei è un esponente di spicco della Lega qui in Molise. Sarà della partita alle prossime regionali? State completando questa lista? Diciamo così, non vorrei apparire autoreferenziale. Che ho fatto con la Giovanni e la faccio anche a lei. Che non ha risposto. Lui è in campagna elettorale da una vita, insomma. Giovanni è sempre da interpretare. Praticamente, io vorrei prima fare un'analisi a casa nostra, perché l'ho fatta a casa degli altri, che è anche, diciamo così, più facile e anche un po' sconveniente. Diciamo così, parlare solo di alchimia, di alleanze, di numeri messi insieme, di forze che si uniscono, senza guardare, no? Senza liberare il campo, innanzitutto dalle macerie. Il centrodestra deve liberare il campo da macerie incredibili. Lei è un attento osservatore delle cose della politica. L'ultimo Consiglio regionale è stato, diciamo così, è stato il corollario su una legislatura, diciamo così, che credo abbia, se non ci sarà una vera rivoluzione, abbia decretato la fine politica della nostra regione. È necessario per il centrodestra ripartire da capo, sgombrare il campo dalle macerie, analizzare gli errori enormi che sono stati commessi, dalla scelta del candidato presidente, a scendere alla formazione delle liste, non pensare soltanto di mettere dentro i cosiddetti portatori di voti, ma mettere dentro qualche portatore di valore, qualche portatore di competenza, qualche portatore di onestà. perché io sono arci convinto, facendo attività politica, diciamo così, nel mio piccolo, che ci sono tantissimi cittadini di centrodestra, che votano il centrodestra, che hanno valori, che possono tranquillamente essere rappresentati da esponenti del centrodestra che hanno valori alti e valori altri rispetto a quelli che sono stati rappresentati in questo scorcio di legislatura. Io credo che non possiamo far finta che non sia accaduto niente. Non possiamo far finta che il diritto alla cura e alla salute nella nostra regione è impedito ai più. Oggi, se non hai disponibilità economiche, non vai da nessuna parte, non puoi curarti, non puoi far curare un tuo parente, un tuo figlio, un bambino. Non possiamo chiudere gli occhi davanti al disastro del trasporto pubblico regionale. Non possiamo chiudere gli occhi davanti alla crisi demografica impressionante che sta interessando il Molise e le aree interne in modo particolare. E rispetto a questo scenario io non mi accontento di fare ragionamenti che pure sono fondamentali. Il voto in più ti fa vincere. Qui bisogna mettere insieme persone che abbiano una visione, una prospettiva rispetto alla salvezza della nostra terra. Io credo che siamo all'ultimo giro. Io credo che lo dico ai rappresentanti istituzionali del nostro territorio di centro-destra, di centro-sinistra, di 5 Stelle, io credo che noi siamo all'ultimo giro. Se non invertiamo la rotta, io non credo che fra dieci anni in Molise si divoterà per eleggere un nuovo Consiglio regionale. che la scelta del futuro candidato presidente della regione centro-destra verrà qui in Molise o sarà calato da Roma? Allora, le dinamiche le conosciamo. Diciamo che il Molise non ha questa preponderanza nei pensieri dei leader nazionali in considerazione insomma della irrilevanza demografica. Però credo che comunque negli anni è stato dimostrato che il Molise è stato un po' un laboratorio sempre della politica. Io credo che ci sia sicuramente la necessità di un accordo nazionale perché non sveliamo segreti particolari devono innanzitutto decidere a quale partito sarà assegnata la casella della presidenza della regione Molise. A quel punto spero che ci sia davvero una verifica sul territorio anche mettendo in campo strumenti innovativi per il centro-destra. Io sono stato da sempre un fattore e questo proprio perché cerco di essere onesto intellettualmente anche obiettivo fattore delle primarie. Perché non pensare anche nel centro-destra la possibilità di far scegliere dal basso agli elettori del centro-destra il proprio candidato presidente e soprattutto questo direttore è importante e sarebbe importante dopo il buio di questa legislatura. Cioè noi non possiamo pensare che i nostri concittadini i nostri corregionali abbiano il prosciutto sugli occhi. hanno assistito come abbiamo assistito noi a uno spettacolo indecoroso dal quale dobbiamo trarre un insegnamento quindi è necessario ripartire da zero con forza con dignità e con valori perché si è parlato solo di tattica di strategia di assassini politici rivalse vendette sono state varate leggi regionali per far fuori i consiglieri regionali eletti cioè noi davanti a questo spettacolo non possiamo far finta di nulla. Allora parliamo ora un po' di problemi che toccano la città di Campobasso allora lei si è sempre interessato di cultura di turismo che cosa è stato che cosa ha proposto di bello in questi anni lei? Si può essere soddisfatto di aver ottenuto un risultato in modo particolare guardi onestamente penso che da decenni Campobasso non vivesse un periodo così florido e attivo per la cultura dopo anni finalmente in città sono tornati i concerti la musica nazionale concerti capaci di attirare persone da fuori dopo anni finalmente ci sono dei calendari dei cartelloni di eventi durante tutto l'anno magari eventi che vanno avanti da parecchio tempo che però non erano conosciuti e più già il metterli assieme farli conoscere i cittadini farli conoscere i visitatori è una cosa molto importante eventi di lettura mostre mostre fotografiche pitture abbiamo il circolo sannitico che è uno dei pochi ambienti a disposizione della nostra amministrazione che ogni mese presenta un cartellone di eventi continuo ogni giorno c'è qualcosa per la prima volta il comune di Campobasso si è trovato a gareggiare assieme ad altre istituzioni in scenari nazionali e mi riferisco alla candidatura come capitale del libro in cui siamo arrivati in finale è già stato quello un grandissimo risultato e poi la valorizzazione di tutte quelle attività culturali che si rifanno alla tradizione quindi tutte quelle manifestazioni tradizionali che sono sicuramente un elemento importante per la cultura cittadina ma sono anche un'attrattività turistica e quindi la valorizzazione anche sotto il punto di vista scientifico c'è stata per la prima volta un partenariato con l'istituto centrale per il patrimonio immateriale per la valorizzazione di queste tradizioni il comune di Campobasso è entrato a far parte della rete nazionale delle festività di Sant'Antonio Abate quindi con il fuoco che ogni anno accendiamo per quanto riguarda l'aspetto turistico le attività turistiche onestamente bisogna dire che il Campobasso era a zero assolutamente oggi finalmente possiamo dire che qualcosa è cambiato abbiamo inaugurato un infopoint turistico quindi per la prima volta in città c'è un punto capace di accogliere i visitatori a Campobasso abbiamo per la prima volta pubblicato una guida turistica sia cartacea sia in digitale della città di Campobasso abbiamo aperto un sito internet dedicato a Campobasso all'offerta turistica e abbiamo anche potenziato il museo principale probabilmente della città di Campobasso che è quello dei misteri è la festa più importante è l'evento che attira più visitatori nella città lo abbiamo valorizzato e potenziato attraverso dei sistemi multimediali oggi chi visita il museo dei misteri quasi come per magia è un gioco può fare un giro sui misteri mette dei visori in 3D e si ritrova sopra un mistero è un gioco ma coinvolge i visitatori in maniera forte e probabilmente invita ancora di più chi si trova anche per caso nella nostra città a tornarci Colaggio Vanni un aspetto che forse è stato sottovalutato che in questi 4 anni a Campobasso hanno chiuso decine e decine di attività commerciali produttive che cosa si poteva fare per evitare ciò prima di rispondere alla sua domanda ho sentito la ringa di candidatura di Alberto Tramontano quindi gli faccio il buco al lupo dice sempre così e poi è candidato comunque mi fa piacere che il collega scende in campo quindi siamo a due detto questo il commercio in Molise a Campobasso non in Molise ha vissuto già qualche anno fa a Isernia una piena paralisi penso che lei lo vive tutti i giorni venendo da la città Pentra lo stesso vale a dire a Campobasso io non mi trovo d'accordo quando si dice che questa amministrazione ha messo in campo per il turismo e la cultura cose che altre amministrazioni hanno messo c'è da dire che noi mettiamo un infopoint di quello l'assessore a Piazzetta Valombo che doveva essere un salotto della città di Campobasso oggi è sotto il comune di Campobasso ne va preso atto ha detto anche il collega della Lega noi siamo forse i due esponenti che cerchiamo di puntare meno il dito e di essere più collaborativi in un momento difficile dove dal Parlamento alla Regione alle province che non esistono più ma ancora si riuniscono ai comuni attraverso un momento istituzionale difficile il commercio attraversa un momento difficile io penso che Campobasso realmente riesce a reggere all'urto che ha colpito diverse città basta andare in altre città come Benevento che sono diciamo leggermente più grandi di noi credo che il problema non lo può risolvere il comune il comune deve fare delle piattaforme dove coinvogliare noi abbiamo fatto ben 33 piattaforme nel governo Battista alcune anche 5 Stelle le portano avanti città dei misteri di la tua città che sono piattaforme che devono attirare ma poi se si pensa che il comune possa sorreggere le iniziaritive commercianti togliendo la tassa sull'immondizia togliendo la tassa sull'occupazione di solo è un gioco che fa male nel senso che noi io ricordo sempre che l'amministrazione comunale non ha un bilancio derivato ha un bilancio di entrate e di uscite al contrario da quello regionale che ha un bilancio che può variare penso che il comune debba cominciare magari in sintonia più con una regione che ascolta a mettere delle azioni in campo per rilanciare perché quando mi parlano di campo basso città turistica io penso che chi ne parla ha un'idea molto malsana della città di campo basso nel senso bellissimo il castel monforto bellissimo il centro storico ma a confronto di città che turisticamente parlavamo oggi in commissione della tassa di soggiorno ho sentito delle cose proprio io credo che campo basso è una città di servizi prevalentemente di servizi perché c'è la regione perché c'è la prefettura perché ci sono gli organi di polizia e su quella scia deve dare un colpo in più se poi vogliamo parlare di turismo bisogna creare dei format io ho sempre detto come il San Valentino che ha fatto il crociato di Trinitaria hanno fatto che è una storia reale tra Fonsi e Delicato mentre a Verona l'hanno inventata quindi su questo bisogna spingere a portare gente ma avviene sono delle gocce all'interno dell'anno ma a campo basso non può elevarsi a città della cultura o a città turistica perché oltre il termine nella stazione quando funziona penso che non abbia molto da mostrare lo dico con un'esperienza critica perché ci ho provato più volte ecco lei ha fatto cenno all'introduzione dell'imposta di soggiorno è contrario? no perché ci si è messo nei panni di chi oggi ha strutture ricettive non abbiamo messo una tassa se verrà confermata elevata come Roma come Milano come Torino come Napoli anzi il meraviglio è qualche collega che a certe volte cade proprio su certi scivoloni noi siamo una città capoluogo offriamo dei servizi e un euro la tassa di soggiorno penso che sia un contributo allora un euro va bene per lei Di Orio? assolutamente sì per iniziare diciamo è qualcosa che era nella visione del nostro programma quindi di cambiamento e sicuramente per una città come diceva il collega con la Giovanni che sicuramente crescerà anche turisticamente un euro per iniziare anche senza fare differenziazioni su quelle che sono le varie categorie delle strutture ricettive credo che possa andare bene lo stesso la stessa situazione che va bene anche agli secoli comunque avviene un po' ovunque insomma è stato un po' istituzionalizzato sì assolutamente per esatto nei capologhi di regione Campobasso ancora i luoghi anche maggiormente attrattivi con l'attrattiva turistica esatto maggiore e quindi anche gli stakeholders le associazioni di categorie hanno risposto positivamente nei vari incontri che con l'assessore Felice ma anche con l'assessore Panichella si sono avuti hanno comunque forse magari quello che può essere la cosa un po' più difficile per loro ecco dover poi riversare queste imposte al comune di Campobasso ma la cosa che forse è più importante è che questi introiti naturalmente saranno poi tutti indirizzati al turismo stesso e anche gli stessi stakeholders vorranno partecipare a quelle che possono essere l'utilizzo di questi di questi introiti che l'imposta di soggiorno porterà nelle casse del comune quindi cartenolistica delle situazioni che possano migliorare quella che è il turismo cittadino tra poco arriverà approderà anche in aula il bilancio di previsione 2023 2025 ci può anticipare qualcosa? Sì diciamo che è stato di questi ultimi giorni le varie commissioni di cui presiedo quella della commissione bilancio diciamo una prima analisi del bilancio di previsione 2023 2025 con tutti diciamo gli atti propedeutici poi alla sua approvazione si vede le tariffe tariche come diceva come ha già detto l'assessore Panichella in consiglio dove le abbiamo approvate sono rimaste invariate rispetto al diciamo sono rimaste uguali a quelle dell'anno precedente quindi c'è stato solo un piccolo incremento nel costo che arriva a un 4,28% diciamo si parte da uno 0,8 a un 4,28 per le utenze domestiche e un 2% per quelle che sono le utenze commerciali di quelle che sono le attività che sono sul territorio cittadino ma c'è anche da dire che proprio riguardo la Tari l'amministrazione comunale nel diciamo l'anno passato ha portato alla luce un'evasione che sicuramente servirà successivamente per abbassare magari nel 2024 queste tariffe abbiamo confermato le aliquote IMU naturalmente in esenzione per la prima casa per esenzione naturalmente per i terreni agricoli per i fabbricati agricoli e naturalmente ci sono state diciamo rispetto agli altri anni l'approvazione del bilancio è andato un po' più in là rispetto agli anni passati quando approderà in consiglio aprile? credo che entro questo mese c'è la proroga fino al 30 aprile ma diciamo che il bilancio era già pronto da novembre allora tramontano lei sulla ZTL ha detto se accade ciò è la fine del commercio può spiegarci meglio questo suo concetto diciamo che detta così a effetto però io ho inserito è una proposta un'idea sulla quale la maggioranza in modo particolare l'assessorato della mobilità sta lavorando in modo molto forte e tenace io quello che contesto contestato rispetto a una realtà che appare inesorabile perché lo fanno tutti quello che contesto è la mancanza di un'analisi di contesto l'ho detto ripetutamente anche nelle commissioni che si sono occupate di questo tema cioè il nostro centro storico ho invitato i colleghi in modo particolare del Movimento 5 Stelle che stanno portando avanti con forza questa iniziativa mi dite quanti abitanti ci sono nel centro storico quanti italiani quante famiglie quanti bambini quante attività commerciali saranno tra virgolette chiuse all'interno della ZTL che cosa è accaduto negli ultimi anni la desertificazione di cui parlava lei commerciale una domanda che ha fatto al collega Salvatore con la Giovanni è legata anche a delle scelte almeno io le interpreto in questo modo a delle scelte ad esempio sulla mobilità chiudere piazza prefettura ad esempio che dà un vantaggio innegabile alla salubilità dell'aria e anche al benessere dei pedoni chiudere il corso Vittorio Emanuele quindi elevare questo totem alla sostenibilità senza però accompagnare queste chiusure con delle politiche di sostegno in quelle aree secondo me ha creato un danno enorme e irreversibile alle attività commerciali io non sono d'accordo che non si può fare nulla è una questione anche di priorità parlava Vinci Guerra che è vero che negli ultimi anni a Camo Basso c'è un dinamismo culturale importantissimo ma come senza soldi non si canta messa con tanti soldi è più facile cantarla la messa mai sono stati spesi perché dico questo perché io ragiono secondo delle priorità mai sono stati spesi tanti soldi sugli eventi culturali e ci può stare una scelta legittima ma allo stesso tempo che cosa è stato fatto si parlava prima dei tributi e delle tasse comunali che cosa è stato fatto per le attività in difficoltà nulla nulla cioè non c'è stato uno sforzo per creare una fiscalità di vantaggio per dare un segnale se non quelli che derivavano dal governo per il covid come effetti covid per alleviare il peso degli esercenti già gravati da due anni e mezzo di covid allora quello che contesto e le priorità che ci si danno nell'amministrare un altro esempio parliamo di Campobasso che deve diventare città turistica sono felicissimo innamorato della mia comunità delle mie tradizioni però non possiamo poi iniziare ad asfaltare in mezzo a Campobasso di marciapiedi appunto con l'asfalto con il catrame secondo voi è un bel biglietto da visita che noi offriamo all'eventuale turista che sceglie di venire a Campobasso credo che sia una scelta sbagliata il decoro urbano ha un valore assoluto se si vuole attrarre il turista vedere lungo il tipo dove sta il liceo classico che è la scuola sede della cultura classica della bellezza vedere che tutto il marciapiede è asfaltato e non riproposto a regola d'arte credo che non sia un bel segnale che viene dato si fa per risparmiare si possono risparmiare soldi in altre direzioni e investirli in quelle io vi ringrazio per essere stati qui con me in questa mia parte ora tutti e quattro i miei graditi ospiti naturalmente si caleranno anche nel lagone politico delle prossime regionali perché ognuno darà il suo contributo Salvatore Colaggiovanni è un candidato in pectore quindi ha detto ha annunciato anche che lo sarà anche Alberto Tramontano noi crediamo alle sue parole devo riconoscere che Salvatore Colaggiovanni è il record man delle preferenze al comune di Camobasso ha preso più di 800 voti cosa mai è accaduta nella storia della nostra città quindi credo che sia il primo questo idillio particolare fra Colaggiovanni e Tramontano che la dice tutta ci stimiamo da tanti anni però è bene vincere faremo la Lega Popolare grazie a Antonio Vinci Guerra a Salvatore Colaggiovanni a Pina Di Orio e a Alberto Tramontano per essere stati qui con me tra qualche minuto dopo la pubblicità ci occuperemo delle vicende del Consiglio regionale del Morise ospiti l'assessore Quintino Pallante i consiglieri regionali Andrea Di Lucente e lo è anche Mena Calenda che si è dimessa da assessore a tra poco dunque seconda parte di conto alla rovescia come abbiamo anticipato parleremo del Consiglio regionale dei fatti avvenuti di quello che accadrà e delle future elezioni regionali ospiti qui nei nostri studi l'assessore Quintino Pallante buonasera grazie per essere qui con noi buonasera anche Andrea Di Lucente consigliere regionali in collegamento Skype abbiamo Mena Calenda se possiamo buonasera buonasera grazie per aver accettato l'invito so che ha qualche linea di febbre quindi le auguriamo una pronta guarigione ma intanto la ringrazio per aver accettato l'invito di essere presente qui con noi inizierei proprio con lei perché diciamo è l'argomento che ha fatto più discutere negli ultimi giorni le sue dimissioni perché lo ha fatto? ma vede nel consegnare nel rimettere al Presidente Donato Toma le mie dimissioni questo è stato un gesto comunque meditato e sinceramente non è stato un momento di follia purtroppo ultimamente diciamo dal 31 dicembre ho iniziato a non avere più quella condivisione di scelte che ovviamente se fai parte di una giunta devi avere e quindi poi diciamo sono state tante le cose che sono accadute ultima ma non per ultima la questione sul Veneziale di Sernia dove per un protocollo di intesa il direttore Florenzano ma non lui perché poi spiegherò anche nel merito ha comunque revocato o meglio ha messo nell'ospedale di Sernia reparto chirurgia il dottor Sciaudone al posto di Giovanni Vigliardi credo che queste scelte dovevano essere in qualche modo condivise soprattutto con quelli che sono gli attori del territorio e mi spiego meglio ci sono consiglieri perché ovviamente ognuno di noi ha un'appartenenza cioè io vengo e provengo dall'area di Sernia anche se il mio voto è stato a livello diciamo di tutto il Molise altri consiglieri tipo Andrea Di Lucente vengono dall'Alto Molise e il consigliere Quindino Pallante comunque è radicato sul Campobasso e in altri territori penso che ultimamente siano venute meno proprio tutte quelle aspettative che avevo veramente riposto nel momento in cui accettai di inserirmi nella giunta con un gesto anche abbastanza eclatante perché pensavo che comunque far parte di un'aggiunta cosa che non rinnego è per me è stato un momento di grande crescita ho avuto dei colleghi fantastici ma lo stesso presidente Toma ma ultimamente davvero per me era diventato quasi impossibile condividere tutte quelle scelte che non mi vedevano più d'accordo sulle posizioni dei miei colleghi vorrei fare questa domanda ma lei era a conoscenza di questo protocollo d'intesa che è stato filmato con l'Unimon sì sì ero a conoscenza perché in realtà metà gennaio adesso non ricordo appena dopo l'epifania era venuta fuori questa notizia che era stata messa in circolo penso proprio dal dottor Pastore e devo dire che immediatamente chiamai il direttore Florenzano che aveva un pregio quello di rispondere sempre mi accennai la situazione e lui mi disse guarda che questo è un protocollo che in realtà viene da lontano quindi già da frattura e insomma non credo che venga attuato in tempi brevi anche perché non dimentichiamo che il dottor Vigliardi dovrà andare in pensione quindi si poteva in qualche modo salvare capri e cavoli però lì ho capito che c'era una chiusura del presidente probabilmente di non voler far attestare a nessuno la vittoria tra virgolette di lasciare poi un primario che è una vittoria non di Filomena Calenda ma di tutto il Bolise in particolar modo della città di Sernia ecco quindi lei mi diceva che Vigliardi sta appena andare in pensione o ho capito male? no 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 io so che Vigliardi credo che dovrebbe andare in pensione però lui può chiedere sempre i due anni quindi insomma per due anni si può ancora avere l'onore di mantenere una chirurgia che possa essere comunque tale perché se togliamo anche la chirurgia l'ospedale di Sernia chiudiamolo perché pronto soccorso così cioè tutte queste scelte io non ho vede non sono intervenuta sulle scelte di radioterapia perché sapevo che lì erano altri parametri però sulla scelta dell'ospedale del Veneziale di Sernia a mio avviso si poteva considerare che quell'assessore che comunque ha sempre votato anche quando poteva non votare atti di cui non aveva in cui non aveva partecipato nel momento delle nomine io mi sono accollata a tutte le responsabilità però ho visto che c'era forse dall'altra parte un po' di chiusura nei miei riguardi e siccome io credo che il ruolo più importante che io ho è quello che mi è stato affidato dalla gente dal popolo quindi quello di essere di rimanere un consigliere regionale io continuerò questa mia attività ovviamente fino a quando non ci avranno fra tre mesi si torna al voto comunque lei rimane nella maggioranza l'ho chiarito anche una mia telefonata non appena ho appreso l'autista questo può confermarlo ma certo io manterrò la maggioranza ovviamente dobbiamo capire mi scusi non voglio essere retorica ma di quale maggioranza parliamo perché in realtà io dopo un po' di tempo non so più di quale sia la maggioranza voglio dire io voterò il bilancio perché so che già oggi abbiamo delle grosse difficoltà quindi non contribuirò come ha fatto qualche collega a non votare il bilancio quindi su questo posso garantire il mio voto favorevole perché oggi non dimentichiamo che stiamo lavorando in dodicesimi e questo cosa vuol dire che abbiamo una regione che oramai è a collasso quindi la mia responsabilità sarà quella di votare il bilancio poi soprattutto su alcune azioni io spero che i miei colleghi vorranno condividere con me alcune questioni importanti ovviamente non parlo di colleghi di giunta perché penso che oramai insomma siamo alla fine di un percorso che comunque ci dovrà vedere vincitori delle prossime regionali 2023 quindi confido nel buon senso di alcuni dei miei colleghi quindi quelli più scevri da condizionamenti e lì c'è anche Andrea Dilucente ma non perché Quintino non lo sia però insomma Andrea è un po' più libera un po' come lo sono io perché in realtà non siamo oggi posizionati in un partito che ci detta delle regole Ascoltiamo ora ascoltiamo un po' anche Pallante e Dilucente allora che idea si è fatta lei Assessore di questa storia Intanto cominciamo a sgombrare il campo da una serie di equivoci il protocollo di intesa è un protocollo che viene firmato nell'interesse dei cittadini e che consente ai professioni universitari di dare il proprio contributo è un protocollo che è stato firmato anni fa e che prevedeva appunto ove le condizioni lo permettessero e nell'ospedale di Sernia c'era il Viliardi che è un ottimo primario che è un ottimo medico che ha tutto il sostegno da parte non solo della città di Sernia e della collega Calenda di tutti quanti evidentemente soprattutto dei pazienti ma era un primario facente funzioni e quindi nelle condizioni in cui si era fino a qualche giorno fa per migliorare l'offerta sanitaria e quindi usufruire anche dei professori universitari l'università quindi non c'entra nulla l'ASDREM e ancor meno la regione aveva indicato il professore Viliardi come primario di Sernia oggi le condizioni sono diverse come tutti i noti quindi Viliardi andrà nei prossimi giorni ad occupare nell'ospedale di Campobasso per consentire appunto da una parte una maggiore risposta sotto il profilo sanitario ma all'altra anche della formazione dei nostri studenti la migliore offerta sanitaria possibile tutto qui non credo che questo sia un caso da amplificare ancor meno può determinare delle scelte che pur voglio dire rispetto della collega Calenda ma che non sono come dire un fattore scatenante poi per quanto riguarda la libertà di azioni io credo che tutti noi abbiamo la libertà e soprattutto rispondiamo dopo tanti anni di politica alle esigenze del territorio senza nessuna distinzione da quale parte si è come dire posizionati dal punto di vista della residenza io stesso come tutti sapete sono nato nella provincia di Serni ma questo non limita né la mia azione nei confronti degli esernini né condizione quella nei confronti dei capobassani città nella quale vivo io sono sicura che Mena Calenda continuerà a dare il proprio contributo come giusto che sia perché è stata tanti anni in maggioranza ha condiviso tante scelte oggi fa una come dire ha una posizione politica che è sua e che non tocca a me né giudicare né approvare né disapprovare quello che conta è che il centrodestra possa affrontare la campagna elettorale nel miglior modo possibile e possa dare ai cittadini la migliore offerta sanitaria per la quale tutti insieme stiamo facendo una battaglia dentro la quale il caso Viliardi è una delle problematiche che è stata risolta perché appunto continuerà a sboggere Scusa Quintino continuerà a sboggere prego è Viliardi mi sembra di aver capito forse ti sei sbagliato Sciaudone andrà a Campobasso non Viliardi ah sì se ho detto questo forse ti sei sull'app volevo dire che grazie allo spostamento del professore Sciaudone dai Serni a Campobasso non ci sarà nessuna ripercussione anzi ci sarà un miglioramento perché appunto voglio ricordarlo che Viliardi è un medico che ha tutta la stima incondizionata da parte di tutti quanti noi ma avere anche la possibilità di un professore universitario che possa da una parte formare i ragazzi e dall'altra dare il suo contributo al nostro servizio sanitario è un passo in avanti quindi da questo punto di vista non solo non c'è stato arretramento ma c'è stato un miglioramento io invito ancora una volta Mena Calenda a contribuire come ha fatto fino ad oggi alla risoluzione dei problemi che sono tanti per quanto riguarda l'esercizio provvisore è tutti noto che durante questo periodo ci sta appunto l'utilizzo per dodicesimi non appena potremo approvare il bilancio sarà risolto anche questo problema ma nel frattempo non ci sono disagi per i molisani voglio dire è bene chiarirlo chiariamo anche che all'ospedale nel reparto di chirurgia del Ferdinando Veneziale ci sono stati dei medici eccellenti è andato da poco in pensione anche Enrico Caranci che io conosco bene un'alta professionalità stesso dicasi per Vigliardi che hanno fatto sempre un gioco di squadra eccezionale quindi mi pare di capire quindi che Vigliardi rimarrà al suo posto assolutamente sì ma questo era un obiettivo che la maggioranza sia pur indirettamente per quello che come dire può contare un'azione di moral suasion come si utilizza dire in termini inglesi dicevo questa è una procedura che puntualmente era stata avviata anni addietro e che prevede in forza di una norma nazionale la possibilità che le università mettono a disposizione del sistema sanitario i professori questa scelta viene effettuata dall'università il protocollo viene sottoscritto appunto tra la regione e l'università la legge nazionale ma il problema non esiste più perché appunto Sciaudone andrà a ricoprire questo incarico di primario nell'ospedale di Campobasso punto ma su questo c'era già un impegno già nei mesi precedenti voglio ricordarlo che appunto come come era stato peraltro attenzionato il professore Sciaudone avrebbe ricoperto l'incarico come dire nell'ultima parte del percorso del professore del dottore Vigliardi al quale pure bisogna riconoscere non solo capacità ma anche autonomia rispetto alla sua età di pensionamento è una facoltà che lui ha non la possiamo imporre noi naturalmente auspichiamo che lui rimanga il più tempo possibile ma la scelta circa la sua età pensionabile è una scelta che rimane a lui bene allora Dilucente poi di nuovo a Calenda io penso che la politica non debba mai entrare nelle scelte sanitarie questa è una è una mia idea l'ho sempre avuta perché se la sanità molisana si trova in questo stato è per molte scelte per molte ingerenze fatte dalla politica in passato quindi non mi trovo d'accordo quando qualcuno dice io non ho fatto delle nomine e quindi lascia pensare che voleva nominare il dottor Gagliardi primario perché la politica non può nominare un primario Dottor Vigliardi non Gagliardi troppi lapsus perché altrimenti la politica non può nominare il dottor Vigliardi era un facente funzione sicuramente se non c'era quel protocollo d'intesa veniva messo a bando il posto da primario nel reparto di chirurgia di Sernia così come è stato per Campobasso a Campobasso oggi come oggi c'è stata la morte della scorsa settimana del primario di Campobasso ottimo primario ottimo primario un amico una persona per bene e quindi ora c'era l'esigenza di sostituire un professionista con un altro professionista poi se andiamo a vedere Shaudon era il secondo in graduatoria dietro il dottor Di Marzio quindi la politica non deve non deve influenzare non deve per forza entrare nelle scelte perché le scelte di un primario vengono fatte da curriculum da dei numeri e dei parametri che sono prettamente legati all'attività medica e per i chirurghi ancora di più per quanto riguarda il protocollo è un protocollo di vecchia data in parte io non condivido le polemiche che ci sono state sui Sernia sulla persona ottimo professionista Vigliardi ottimo professionista anche Shaudone quindi qualora non c'era la soluzione di lasciare Vigliardi lì sicuramente il reparto di chirurgia molisana e di Sernia passava da un'eccellenza a un'altra eccellenza perché il professor Shaudone viene da una realtà importante come Policlinico di Napoli dove faceva l'aiuto al primario e quindi penso che di operazioni ne ha fatte migliaia allora Calenda quindi ha capito che Vigliardi rimarrà al suo posto Shaudone andrà a Campobasso quindi lei potrebbe anche rientrare in Giunta a questo punto no 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 allora sgomberiamo il campo perché mi sembra di aver sentito sentivo il collega dilucente che parlava di voler fare delle nomine qui nessuno io non è che volevo nominare Vigliardi io mi ero solamente preoccupata in tempi non sospetti ovvero sia gennaio e poi non più tardi di 6-7 giorni fa quando è rivenuta fuori questa notizia ritornata alla ribalta la notizia di capire ma nulla contro il dottor Shaudone il professore universitario che io non conosco però proprio perché so e conosco l'ospedale di Sernia e per una questione anche che dire un professore comunque avrà anche degli impegni io non voglio entrare nel merito quindi purtroppo il destino ahimè si è accaneto contro il dottor Di Marzio che è venuto a mancare e diciamo che è stata tra virgolette trovata una soluzione che nessuno di noi sperava in quel in quel modo però sgomberiamo il campo dal protocollo perché poi che io debba passare per la scema di turno perché Quintino dice che il protocollo allora il protocollo è stato fatto tra l'università che rispetto e rispetto il medico che è stato indicato e l'ASRE ma poi insomma i telespettatori sanno e capiscono abbastanza che io ho capito che dalle parole che stanno venendo fuori questa sera cioè il dottor Vigliardi rimarrà a disernia mentre Sciaudone andrà a campo basso quindi a questo punto si è risolta la questione oppure no dice lei ma vede per fortuna si è risolta la questione allora vede io nella mia lettera di dimissione ho spiegato bene che la mia è diciamo una questione politica di alcune scelte che non ho condiviso e ovviamente per la questione del dottor Vigliardi ma io sono strafelice perché sono convinta che almeno un segnale sia stato dato ma guardi ma non per me perché io le dico questo ultimamente mi sono proprio allontanata dal modus operandi di tutti anche proprio dei miei colleghi di qualcuno che proprio secondo me è diventato sordo ad alcune richieste io purtroppo devo comunque riflettere su alcune cose quindi io credo che ma questo poi sicuramente ne parleremo più avanti quando entreremo magari nel vivo delle prossime regionali questa volta io dovrò capire bene dove riporre la mia fiducia perché a quel punto se io dovessi pensare di fare e trascorrere una legislatura ma nulla perché il problema di questa legislatura ripeto non è stato il presidente Toma cioè lui è il presidente ma insomma c'è stato tutto il contorno che viene da lontano dall'elezione dal 2018 quando ci sono stati problemi con la Lega tutti sordi poi ci sono stati altri problemi quindi io credo che a questo punto io dovrò stare veramente con gli occhi ben aperti perché questa volta non mi farò imbrogliare se così posso dire bene comunque tra poco parleremo in tremermi rivivito delle prossime regionali intanto ora facciamo un passo indietro allora in consiglio regionale martedì è tornato di scena il suo segretario regionale Filoteo Di Sandro che dopo aver diciamo attaccato Toma per tutto il corso della legislatura è apparso un po' più tranquillo uso questo termine dicendo mi sono attenuto a quello che è stato stabilito dalla direzione nazionale e di concetto anche con la direzione regionale parole che lei si aspettava parlante senza dubbio che Fratelli Italia fosse nel centro-destra e che Fratelli Italia non può non sostenere una coalizione nel centro-destra a me pare solo assurdo doverlo discutere tra l'altro in questo momento Fratelli Italia è il partito di riferimento leader all'interno del centro-destra non vedo quale altra dichiarazione quale altra atteggiamento si potesse avere quindi questo ci fa piacere e oggi in qualche maniera la compaggine di Fratelli Italia diventa più larga io sono e rimango naturalmente a capeggiare la delegazione di Fratelli Italia essendo io l'assessore in perfetta sintonia con Roma in perfetta sintonia con Roma tutte le votazioni fatte adesso abbiamo anche la possibilità di portare come dire maggiormente il nostro contributo alla nostra nelle nostre pese i nostri valori i nostri ideali di contribuire alla realizzazione del programma che sottoporremo ai molisani e insomma io sono contento di questo e quindi Filoteo Di Sandro voterà anche a favore del bilancio che presenterete a breve queste le indicazioni che sono arrivate da Roma le indicazioni sono arrivate da Roma ma ripeto quale altre indicazioni sarebbero potute arrivare da Roma se non quelle di sostenere il centrodestra ognuno di noi ha delle sfumature delle sensibilità però Fratelli Italia è il partito guida nel centrodestra esprime a livello nazionale il presidente del consiglio esprime a livello regionale consiglieri regionali assessori e io credo che non c'è e pure i due parlamentari non dipendichiamo i due parlamentari assolutamente no ha appena eletto con un risultato eclatante entrambi parlamentari sul proporzionale quindi ha il 100% della delegazione parlamentare sul proporzionale l'intera delegazione molisana è tutta di centrodestra io sfido chiunque a pensare una soluzione diversa rispetto a ciò chi pensa il contrario lo fa per alimentare come giusto che sia come è normale che sia quelle sfumature differenti che sono anche frutto dei tanti anni nei quali si fa politica ecco io vorrei ora che dalla regia mi mandassero in onda l'intervista che ha realizzato Stefania Potente a Filoteo Di Sandro proprio al termine del suo ingresso di nuovo in consiglio regionale e poi lo commenteremo via con queste dichiarazioni di Di Sandro l'ultimo consiglio regionale del Molise con l'assemblea nei pieni poteri visto il rush finale in ottica elezioni il 25 e 26 giugno si è tramutato in una partita a scacchi un gioco politico portato all'esasperazione con una maggioranza di centrodestra ancora più frammentata rispetto al primo giorno di mandato in cui non sembra esserci alcun vincitore una mattinata densa di strategie di scambi di accuse relativi a ricatti gelosie poca coerenza iniziata con la ratifica delle dimissioni dell'assessore Vincenzo Niro attuate per impedire come lui stesso ha detto di fare entrare Antonio Tedeschi il consigliere ex surrogato vittorioso in Cassazione di certo non allineato col partito dei popolari con cui si candidò cinque anni fa strategie come la calma serafica del governatore Donato Toma che non si è scomposto nemmeno di fronte alle bordate di uno dei suoi più strenui detrattori Filoteo Di Sandro tornato a sedere in consiglio dopo dieci anni di assenza e dopo due anni di battaglia giudiziaria l'assessore Pallante che non ha partecipato alla presa d'atto dell'ordinanza della Suprema Corte non si è dimesso come si vociferava nelle ore precedenti cioè quando la giunta si era riunita per capire come muoversi quindi ecco Di Sandro dopo le schermaglie tra i consiglieri ancora sul tema della legittimità della presa d'atto della decisione dei giudici il coordinatore di Fratelli d'Italia a partito della Premier Meloni che ha confermato Toma in qualità di commissario del post-sisma 2018 non le ha mandate a dire contando tutti quelli che ha definito gli errori del governatore del Molise dal non convocare mai partiti alla decisione autonoma delle elezioni d'estate Presidente Presidente in termini politici lei ha distrutto in qualche modo il centrodestra che l'ha voluta e l'ha eletta trasformando una maggioranza politica di centrodestra in una maggioranza del Presidente in qualità in qualità di coordinatore regionale di Fratelli d'Italia ho avuto sempre una posizione un po' critica nei confronti del governo regionale perché io credo che si poteva fare meglio si poteva fare di più in questi anni ci siamo accorti che probabilmente quel ruolo così delicato così particolare debba essere ricoperto da un esponente politico partitico perché può rendere conto e deve rendere conto a qualcuno invece il personaggio della cosiddetta società civile non rende conto a nessuno per cui speriamo ci auguriamo ci stiamo già vedendo e ci stiamo organizzando di trovare una squadra forte e coesa indipendentemente da quello che è successo in questi cinque anni Dilucente io faccio questa considerazione intanto l'esponente della società civile è Toma è stato scelto da quelle persone che poi lo hanno contestato durante tutto il tragitto politico di questi cinque anni lei che giudizio dà da certe affermazioni di chi lo ha contestato ferocemente durante i cinque anni e chi invece ora ha fatto un po' per certi versi un po' retromarcia nel senso politico forse perché ha avuto anche delle pressioni da Roma chi più ne ha ne metta guarda in Fratelli d'Italia c'è stato qualche problema dall'inizio io nel forse sono stato l'unico in consiglio nel momento in cui è entrato Filoteo che ho fatto un intervento teso a rimarcare quelli che sono i problemi di Fratelli d'Italia che hanno condizionato un po' tutta la maggioranza in questi anni perché oggi Fratelli d'Italia formalmente è composta da un consigliere regionale che è Filoteo Di Sandro perché Michele Iorio è rimasto sempre nel suo gruppo Aida Romagnolo è rimasta capogruppo della Lega quindi ad oggi non sono in Fratelli d'Italia perché in questo momento entrano in riunioni di maggioranza tre esponenti con tre ruoli di capogruppo dei loro rispettivi gruppi il problema principale è che i partiti hanno delle colpe importanti nella gestione dei rapporti con il Presidente Toma sicuramente caratterialmente il Presidente Toma ha come tutti quanti noi pregi e difetti però non è stato aiutato assolutamente da alcune scelte di alcuni partiti non ci dimentichiamo che all'inizio Fratelli d'Italia non era giunta nella prima giunta non erano presenti dicono sempre che c'erano degli accordi a monte ai più sconosciuti Forza Italia ebbe di colpo due oltre alla presidenza della regione della giunta regionale ebbe due assessori e da lì sono partiti tutti i problemi e i mal di pancia di questa maggioranza e oggi come oggi è inutile dirlo che siamo una maggioranza di undici persone tredici elette però undici che votano a favore della maggioranza e sono undici partiti per me perché oggi come oggi non c'è un partito che non ha problemi al proprio interno non c'è un partito che ha una linea unitaria sulle scelte da fare in Consiglio io le auguro di venire a fare qui l'opinionista in qualche altra occasione perché la sua analisi la condivido pienamente ed è lucidissima Calenda ha sentito le parole del consigliere di Lucente lei con l'ingresso di Risandro in Consiglio il problema della surroca che giudizio dà? Ma vede io credo che se c'è una sentenza della Cassazione bene ha fatto il collega ovvero sia l'assessore Pallanti a mantenere la sua posizione perché in qualche modo insomma è comunque il primo partito come si diceva prima abbiamo il presidente del consiglio che è Giorgia Meloni però io volevo anche sperzare con Alancia ma non perché il presidente Toma debba essere supportato e diciamo da me però io credo che il presidente ha avuto già dal 2010 il grande problema perché ecco dobbiamo ricordarlo della Lega perché in realtà la Lega che espresse due non una due consigliere elette nella persona di Aida Romagnolo e Filomena Calenda si sono viste per diciamo in virtù di nomine assessorili di due assessori esterni non avere la possibilità in qualche modo di poter avere la propria visibilità che si erano comunque prese dal territorio perché la visibilità era venuta fuori anche da un bel po' di voti che sia la Romagnolo che Calenda avevano preso quindi già da lì secondo me i partiti hanno iniziato a dare qualche a fare qualche gesto forse poco poco carino ma non è questo il problema perché io dico che probabilmente molti di noi ecco vuoi o non vuoi eravamo novelli nel 2018 eravamo nuovi eravamo neopiti del Consiglio regionale e quindi magari tanti errori si potevano anche evitare perché poi all'epoca c'era ovviamente il partito che era la Lega quindi io credo che poi in virtù perché poi esistono anche la conferenza Stato-Regione cioè comunque ci sono delle regole da mantenere con tutto il sistema però in virtù di un partito che all'epoca insomma aveva il 35% abbiamo gettato a mare due consigliere nel 2018 per arrivare poi al 2021 a poter riprendere in mano quel posto che probabilmente poteva essere gestito in maniera diversa comunque mi scusi Calenda ma l'indicazione di Mazzuto fu data a Toma direttamente da Saldini dai Saldini sì sì lo so quindi il presidente Toma non ha fatto altro che tenere in considerazione una richiesta che arriva dal leader nazionale forse qui che sta l'indicazione ma infatti era quello che stavo spiegando alla fine insomma purtroppo ci sono delle regole era il leader della Lega ha chiesto comunque di inserire all'interno della Giunta un assessore e poi un altro assessore esterno e quindi da allora sono arrivati i malumori che poi insomma tra Covid e poi tutta la questione di Fratelli d'Italia che nota ma un po' perché poi ci sono personaggi che si sono distinti perché magari sono stati di più sui giornali e poi altri invece che hanno ottenuto tutto quello che dovevano ottenere e sono lì immortalati sul trono quindi e mi taccio bene allora adesso entriamo però nel vivo delle prossime regionali abbiamo un po' fatto qualche riflessione sugli ultimi accadimenti ed ora rivolgiamo il nostro sguardo da qui a quello che accadrà fino al 25-26 giugno quando si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale la scorsa settimana ho avuto ospiti qui in questo salotto esponenti del campo progressista questa settimana per bilanciare le cose ho imitato tre esponenti del centro-destra intanto cominciamo col dire che si doveva fare una riunione diciamo intorno al 10 di questo mese ma tutto è slittato per ovvi motivi e quindi da Roma questo incontro non si sa quando ci sarà e quando verranno date le indicazioni per il Molise i fari sono puntati per il momento ad altri aspetti vuoi per quello che è accaduto in Calabria vuoi per quello che ci sarà anche per altri aspetti a livello nazionale e vuoi anche perché ad aprile si voterà in Friuli dove il centro-destra spera di ottenere un'altra vittoria qui in Molise si vota non ci sarà il voto disgiunto però ognuno dovrà preoccuparsi di ottenere il 5% perché se non si supera questa soglia si rimane fuori dal Consiglio regionale al momento nel centro-destra ci sono schieramenti già belli e pronti da Fratelli d'Italia a Forza Italia alla Lega al centro di Cesa e dei suoi amici poi potrebbero venire fuori naturalmente i popolari di Vincenzo Niro che è molto attivo sul territorio regionale sta per preparare una sua squadra molto competitiva ed altri movimenti che potrebbero appoggiare il centro-destra intanto poi bisognerà vedere a chi spetterà il candidato presidente qualcuno dovrà dire a Toma se non vuole candidarlo i motivi per cui non lo candida da Roma intanto dovrà venire fuori questa indicazione anche se Toma potrebbe essere anche riconfermato perché se la casella del presidente della regione dovesse aspettare a Forza Italia sono tre i pretendenti con in testa il presidente Donato Toma a seguire Nicola Cavaliere e Francesco Roberti se dovesse aspettare invece a Fratelli d'Italia ci sono adesso tre posizioni da tenere in considerazione prima erano due vale a dire l'assessore Quintino Pallante e Michele Iorio che entrambi naturalmente puntano a rivestire questo importante incarico Quintino Pallante che da sempre è stato nell'alvio della destra prima con Alleanza Nazionale poi naturalmente adesso con Fratelli d'Italia ha un suo passato lineare che tutti gli riconoscono adesso attualmente però si è aggiunta una terza casella assessore Pallante perché credo e ritengo che anche il segretario regionale del suo partito Filoteo Di Sandro spinto dall'entusiasmo di essere ritornato di nuovo nel lagone politico potrebbe richiedere anche per lui una sua candidatura quindi Fratelli d'Italia a Roma dovrà giocare su tre nomi sull'assessore Quintino Pallante su Michele Iorio ed ora anche su Filoteo Di Sandro chi ha più cartucce da scarare può a quel punto vincere la partita intanto a me fa piacere che la scelta che avrà il tavolo romano è una scelta tutta di qualità che mette nel parterre diverse persone che hanno fatto politica e che possono in qualche maniera immediatamente affrontare i problemi dall'alto della propria esperienza quindi a me fa molto piacere che ci siano più candidati possibili rimandiamo le scelte al tavolo romano rimandiamo a quella che è come dire la messa che solitamente viene cantata durante questi periodi ma quello che invece importa più di qualunque altra a me ma soprattutto ai molisani è che questa squadra sia nelle condizioni di operare nel miglior modo possibile e che riducala a una come dire informazione che lei fa in maniera straordinaria ma poi alla fine quello che conta è che si risolvano i problemi e per risolvere i problemi ci vogliono persone capaci e si tratta di mettere soprattutto una coalizione che per esperienza per linee programmatiche e per conoscenza sia in grado di operare non mi sembra che dall'altra parte dello schieramento lasciando a loro ovviamente tutte le scelte possibili siano a questo livello perché noi stiamo discutendo di tutti gli uomini del centro destra capaci e di lungo corso dall'altra parte devono come dire ancora ragionare circa il programma ancora smussare delle differenze che non sono di poco conto e che sono stati amplificati anche in questi cinque anni non ultimo qualche giorno fa in consiglio regionale sui media quindi dall'altra parte della barricata sono molto distanti rispetto a quello che possiamo fare noi poi chiunque sarà il candidato per quanto mi riguarda avrà il mio sostegno a prescindere come è stato come è stato in tanti anni in tante campagne elettorali precedenti la scelta la rimandiamo a Roma nel frattempo abbiamo ancora qualche mese nel quale possiamo affrontare i problemi e ce ne sono tanti per i quali io rivolgo l'80% della mia attività all'attività di assessore regionale è una parte residuale a quella di composizione della coalizione delle istituzioni e dei fratelli d'Italia voglio ricordare che oltre i candidati presidenti dovrà essere una lista composta da 21 consiglieri regionali da 21 candidati che devono essere scelti con attenzione questa volta e che dovranno avere insieme con gli altri quella visione unitaria quindi candidati presidenti importantissimi ma lo sono anche le liste e quindi sia Fratelli d'Italia che tutti gli altri partiti che compongono la coalizione dovranno questa volta ancora di più e a maggior ragione visto che le responsabilità sono aumentate la volta scorsa noi eravamo non nella condizione ottimale cioè quella nella quale si può come oggi accade con molta facilità esprimere critiche e non portare soluzione oggi abbiamo delle responsabilità aggiuntive quindi gli uomini che compongono le liste il candidato presidente dovrà avere a maggior ragione capacità e responsabilità Andrea Di Lucente che farà da grande lei? Grande già lo è però grande sicuramente le chiacchierate con Vincenzo sono quotidiane con Niro sappiamo che sta lavorando sodo Niro sta lavorando sodo non condividiamo alcune cose però su tanti punti diciamo stiamo sulla stessa lunghezza d'onda è anche vero che ci sono anche dei discorsi con dei partiti nazionali aperti perché lo sbarramento al 5% è da tenere in considerazione è da tenere in considerazione sicuramente la la mia giovane età diciamo che sono uno dei più giovani della coalizione di centrodestra fa sì che qualche partito mi ha cercato mi invita a candidarmi anche anche in altre liste per quanto riguarda la coalizione spero che sia una coalizione forte ma che allo stesso tempo guardi anche un po' al rinnovamento perché io ho sentito un po' i nomi che hai fatto come candidati presidente però penso che questa regione deve iniziare anche a cambiare un po' marcia non si può pensare di rimettere chi è già stato presidente di questa regione non me ne voglia il presidente Iorio ma penso che i molisani comunque la sua aspirazione la sua aspirazione legittima come l'aspirazione penso di tutti quelli che fanno politica sono da come i nomi che circolano io da diciamo attento osservatore cerca di fare un po' sintesi di questa trasmissione questa maggioranza debba il centrodestra deve cercare di capire qual è il percorso che deve prendere qualcuno deve avere il coraggio anche di dire al presidente Toma se è lui o se non è lui il candidato presidente è la prima cosa da fare quindi penso che il prima possibile questo lo stiamo chiedendo da più parti con Quintino ci confrontiamo quotidianamente stiamo chiedendo a Roma di decidere a quale partito della coalizione tocca il candidato presidente se è Fratelli d'Italia se è Forza Italia se è la Lega se è il gruppo di centristi tra cui ci stanno anche i popolari perché le verità sono giustamente di tutti quanti una volta che si è deciso chi è il partito che dovrà indicare il candidato presidente se è Fratelli d'Italia penso che sia una questione interna a Fratelli d'Italia se è Forza Italia devono decidere una volta e per sempre di affrontare il problema del presidente Toma sarà Toma o non sarà Toma il candidato presidente e da lì si deve iniziare a costruire le liste perché fin quando non c'è il nome del candidato presidente tu dicevi che Vincenzo Niro sta girando sul territorio sicuramente sta lavorando sodo ma tante persone che si incontrano sul territorio dove gli si propone un'eventuale candidatura vogliono sapere chi è il candidato presidente quindi fin quando non si scioglierà ha sciolto quest'enigma ancora si è in alto mare diciamo siamo tutti in alto mare bene allora Calenda il centrodestra si presenterà compatto con quattro forti schieramenti da Fratelli d'Italia Forza Italia Lega e i centristi lei in quale di questi quattro gruppo farà parte? ma vedi anch'io ovviamente sto dialogando con i vari partiti anche con delle liste civiche con persone che hanno un'idea di comporre liste civiche e oggi davvero non le saprei dire perché in realtà condivido quello che ha detto Andrea Di Lucente cioè oggi mi piacerebbe sapere proprio da questi partiti ovviamente quando saranno pronti chi sarà il presidente perché poi alla fine è tutto in divenire ho la fortuna e questa veramente oggi è una fortuna di essere diciamo di non aver nessun ruolo a livello di segreteria e di partito perché in realtà questo mi rende anche un pochino più scevra da condizionamenti ma è ovvio che io sarò diciamo candidata nel centro-destra perché la mia idea politica è un'idea che comunque viene da lontano è un'idea che va nel centro-destra ma io dico anche un'altra cosa che auspico e spero che qualsiasi esso sia il presidente della regione tutti alla squadra di candidati dovranno poi capire che dopo la campagna elettorale si deve amministrare che cosa ben diversa dalle chiacchiere che propiniamo durante la campagna elettorale perché purtroppo oramai il Molise lo vediamo insomma ha dei grossissimi problemi quindi ovviamente abbiamo avuto anche purtroppo questa legislatura da cui oramai stiamo per uscire ha avuto anche i problemi del covid e questo non è stato da poco quindi io sono convinta e sicura che i partiti nazionali dopo aver fatto delle interlocuzioni tra di loro ci sapranno insomma anche indicare un nome e poi ovviamente ognuno di noi capirà e sceglierà anche in base a chi sarà il candidato che questa volta ci verrà propinato e cosa fare bene io appartengo a quella cerchia di giornalisti che analizza un po' quello che accade nel contesto sia regionale che anche nazionale mi permetto di fare questa riflessione perché con il covid che ha imperato in Lombardia dove tutti hanno diciamo attaccato frontalmente il presidente Fontana Fontana alla fine è riuscito a vincere e alla grande e a riproporsi come presidente della regione Lombardia io ritengo che l'elettorato vada sempre rispettato al di là del fatto che vota il 40% che vota il 60% il 70% vanno rispettate quelle persone che si recono al voto ora un fatto è il rispetto di queste persone un altro è recuperare il forte astensionismo che c'è e questo forse è un discorso che andrebbe fatto molto seriamente da parte di tutti i partiti perché è un discorso trasversale e quindi a questo punto vorrei rivolgere questa domanda all'assessore parlante per recuperare proprio questo forte astensionismo che preoccupa e non poco anche tutti i partiti dal centro-destra al centro-sinistra che cosa si deve fare? Intanto preoccupa un po' di più gli altri perché i partiti dal centro-destra affrontano in maniera tradizionale la campagna elettorale hanno avuto un atteggiamento nei confronti degli elettori come dire concreto e invece c'è un altro schieramento politico in maniera particolare un partito che fa riferimento oggi a Conte che aveva in qualche maniera illuso tra virgolette gli elettori dicendo loro che era molto semplice che bastava prendere delle persone che nella vita di tutti i giorni non facevano politica che loro avrebbero aperto la scatoletta di tonno e quindi questa delusione viene ad oggi soprattutto da quegli elettori che sono profondamente delusi di chi aveva in qualche maniera indebolito le istituzioni bisogna avere anche il coraggio di dirlo proveniamo dalla nostra stagione nella quale c'è stato l'allontanamento degli elettori perché alcuni dei movimenti politici avevano come dire rappresentato le istituzioni nel modo peggiore poi sono andati al governo hanno governato per cinque anni la nazione e sono andati all'opposizione con un calo catastrofico del loro consenso hanno governato Roma hanno governato Torino e le città che hanno governato sono state immediatamente riprese dai politici di lungo corso perché questa è la verità la classe politica è spesso bistrattata ma poi in realtà quando uno tenta di costruire delle alternative soprattutto sulla base di facili slogan si trova di fronte ai problemi che sono di difficile soluzione quindi in questo momento il cenno destra ha visto che ha raccolto consensi notevoli ha appena vinto le elezioni nella nostra regione ha avuto un consenso davvero unico perché è la prima volta che si verifica che l'intera delegazione parlamentare viene affidata a una coalizione ha da questo punto di vista un compito meno difficile non per questo non pensiamo di recuperare tutti gli elettori dando a loro una prospettiva politica un programma politica una coalizione che appunto è collaudata che oggi governa a Roma con un crescente consenso e anche questo è come dire davvero una novità perché quando si va al governo immediatamente dopo si tende come dire a calare nel nel consenso perché appunto ci sono delle grandi aspettative poi ci sono i problemi concreti è di difficile soluzione quindi si tende a perdere consenso nel periodo immediatamente successivo alle elezioni cosa che non è avvenuta per Fratelli d'Italia il cui consenso è crescente dobbiamo capitalizzare questo consenso e a maggior ragione impegnarci per risolvere queste questioni molti analisti politici ritengono che Conde abbia un po' sottovalutato la nuova segretaria del partito democratico la Sline nel senso che prima che venisse eletta lui era convinto che ce la facesse Bonaccini stava rosicchiando con molta arguzia molti voti all'elettorato del partito democratico e credeva quasi un gioco da ragazzi prenderne ancora altri ora invece dalle ultimi sondaggi che sono voti fuori sta accadendo il contrario perché probabilmente quell'elettorato del partito democratico che era rimasto deluso e ha votato Movimento 5 Stelle sta tornando all'ovile ecco il motivo per cui adesso il partito democratico ha superato nei sondaggi il Movimento 5 Stelle che è in calo quasi di due punti rispetto all'ultimo mese vale a dire prima dell'elezione di Sline e potrebbe perdere nelle regionali dove le dinamiche del voto sono un po' diciamo a sfavore del Movimento 5 Stelle che vanno bene alle politiche ma crollano letteralmente dove c'è la pressione del voto con le regionali le comunali e questo denota che un po' alla volta la nuova segretaria del partito democratico potrebbe far tornare a risorgere nel vero senso della parola il partito democratico a discapito di un Movimento 5 Stelle che potrebbe perdere molti ma molti consensi il discorso è che parlano lo stesso linguaggio oggi come oggi la nuova segretaria del partito democratico è andata a toccare quegli argomenti che negli ultimi anni venivano solo usati da Conte e dal Movimento 5 Stelle precariato reddito di cittadinanza e altri argomenti quindi per me è abbastanza rischioso da parte del Movimento 5 Stelle un'alleanza infatti se vediamo giornalmente si parla di una non condivisione sul territorio nazionale perché sanno benissimo il rischio che corrono nel momento in cui si presentano uniti alle regionali ci possono essere più di qualche punto percentuale a favore del PD che è radicato sul territorio e oggi come oggi è uno dei pochi partiti insieme a Fratelli d'Italia abbastanza radicato sul territorio io rimarco sempre alla questione dei partiti perché si è persa un po' questa abitudine a fare politica nei partiti si è persa l'abitudine ad essere radicati sui territori prima c'erano le sezioni quindi si parlava di politica in ogni piccolo paese oggi come oggi se contiamo i centri di aggregazione politici quindi le sedi dei partiti a Stento ci sono a Campobasso di Serni e Termoli quindi a maggior ragione non ci sono sedi dove parlare di politica nei piccoli centri Calenda l'assenzionismo inquietante una disaffezione trasversale di chi ha deciso di non andare a votare secondo lei perché c'è stata negli ultimi anni questa fuga dalle urne ma io credo che innanzitutto questa fuga dalle urne sia stata diciamo fatta e chi fugge dalle urne sono proprio i giovani perché io molto spesso mi confronto con gli amici dei miei figli ragazzi trentenni che in realtà mi dicono ma noi perché dobbiamo andare a votare quando in realtà non cambia mai nulla questo sia per il governo nazionale per il governo regionale e poi a scendere ovviamente la disaffezione l'abbiamo probabilmente trasmessa a noi perché quando si danno anche manifestazioni così come abbiamo fatto molto spesso in consiglio regionale perché io mi assumo sempre le responsabilità parlo di quello che facciamo noi ma anche a livello nazionale di tutti i gran caos che si sono creati tra Movimento 5 Stelle PD e altri partiti ci rendiamo conto che la disaffezione probabilmente è proprio frutto di questa mancanza anche di come diceva anche Andrea sicuramente di luoghi dove esercitare magari momenti di condivisione politica ma io credo che per fare questo bisognerebbe ritornare indietro tornare indietro quando esisteva la scuola politica perché oggi i ragazzi sono proprio lontani dalla politica perché non rivedono nelle istituzioni ma a maggior ragione nelle figure che vengono poi che rappresentano le istituzioni stesse non vedono quelli che potrebbero essere i loro principi e secondo me bisognerebbe ricominciare dai giovani dare anche loro ovviamente una speranza perché non è facile perché io per circa due anni ho avuto anche la delega sul lavoro una delega che è molto molto pesante una delega importante dove in tutti i modi si è cercato di dare anche di fare di dare delle soluzioni a qualcosa che accadeva però abbiamo dei problemi davvero atavici dove comunque noi non abbiamo più imprese non abbiamo più un tessuto produttivo quello che c'è è finito in macerie quindi capite bene che dovremmo davvero fare un magheggio per capire come riportare i giovani alla vicinanza della politica magari con azioni importanti perché molto spesso siamo proprio noi e io adesso dico che nelle stanze ovviamente più alte abbiamo creato questo divario questa divisione tra i giovani e tra chi magari crede ancora nella politica quindi io penso che tutto sia perfettibile e confido in chi ovviamente ha soprattutto nei partiti nazionali che possano in qualche modo dare un segnale forte perché altrimenti davvero non si va da nessuna parte Quintino Parlante lei che è molto radicato sul territorio regionale ha sicuramente un'idea della geografia politica che potrebbe avvenire da qui a qualche mese ritiene che Fratelli d'Italia questa volta le regionali possa avere il successo che ha ottenuto anche in altre parti d'Italia e divenire anche qui il primo partito sicuramente ci sono le condizioni per le quali anche a livello regionale ci sia una votazione che non è assolutamente speculare rispetto a quella diciamo parlamentare perché lì i partiti erano pochi le liste incidono sappiamo perfettamente che quando si entra nel lagone regionale contano anche le conoscenze personali i candidati fanno molto quindi parte con un vantaggio rispetto agli altri partiti però lo deve concretizzare in voto portando questa volta una lista che sia la più ampia possibile per quanto mi riguarda non c'è nessuna difficoltà ad avere colleghi consiglieri regionali insieme quindi non c'è nessun livello di gelosia anzi auspico che insieme alla lista di Fratelli Italia ci siano colleghi consiglieri regionali ci siano sindaci amministratori ci siano persone proveniente anche dalle proprie esperienze nel mondo delle professioni in rappresentanza la più ampia possibile e che possa in questo modo esprimere il potenziale che è circa del 20% per tramutare quel 20% potenziale circa di voti di Fratelli Italia ci vogliono i candidati che sappiano raccogliere e che sappiano fare la campagna elettorale così come si faceva un tempo così come la si fa almeno per quanto mi riguarda tuttora andando incontro alle esigenze dei cittadini parlando con loro e godendo della loro fiducia se Fratelli Italia avrà una lista composta in maniera così eterogenea guardando da tutte le parti dal punto di vista territoriale dal punto di vista delle competenze prendendo per esempio come ha fatto alla Camera andando a prendere due candidati straordinari sindaco di San Giacomo degli Scavoni e consigliere comunale di Sernia i risultati sono stati declatanti quindi se non sbagliamo le candidature faremo sicuramente il primo partito se poi sbagliamo non possiamo che recitare il mia colpa e in più rischeremo anche di non far vincere la coalizione perché voglio ricordare che se Fratelli Italia non raggiunge quei risultati nei quali teoricamente ci sono nei quali risultati teoricamente ci sono come dire la possibilità della vittoria se non lo raggiunge Fratelli Italia diventa difficile per tutta la coalizione ecco anche perché chi vincerà si prenderà anche il premio di maggioranza per cui i consiglieri eletti saranno 13 quindi molti hanno possibilità di rientrare in consiglio regionale di Lucente sì diciamo il gruppo di maggioranza sarà sempre formato da 13 in minoranza ce ne rimangono 8 noi abbiamo l'obbligo di cercare di formare delle liste forti come diceva Quintino sicuramente Fratelli Italia dà la sua la forza e il vento in poppa in poppa perché giustamente i numeri sono dalla loro parte i numeri di un partito che è cresciuto negli anni anche se dobbiamo dire che l'altra volta qui in regione per poco hanno superato il 4% però oggi come oggi hanno dalla loro quella di essere appetibili quindi è molto più semplice per un partito trovare dei candidati forti nel momento in cui si va a comporre una lista perché il ragionamento che molti fanno è sempre quello di andare in una lista forte dove possono scattare più seggi in caso di vittoria quindi l'indeciso o la persona che si avvicina per la prima volta ad una candidatura se deve scegliere tra i popolari e Fratelli d'Italia molto probabilmente qualche possibilità in più secondo qualcuno ce l'ha in Fratelli d'Italia e non nei popolari Calenda c'è chi ritiene che lei si sia candidata alle politiche per contarsi per vedere un po' in vista anche delle prossime regionali che peso specifico ha è così? Ma si può dire di tutto sì mi sono candidata in realtà me lo ha chiesto il segretario Cesa mi sono candidata e ho ovviamente combattuto ma più che combattuto ho chiesto il voto per noi moderati che in realtà in tutta Italia ha preso lo 0,9 e qui in Molise abbiamo fatto l'1,6% ovviamente Fratelli d'Italia lo trovavo comunque ma faceva parte ovviamente del grande schieramento quindi in realtà io mi sono candidata ma perché diciamo non mi sono mai candidata alle politiche e ho provato questa esperienza anche con un discreto risultato ho preso circa 2.100 voti che ripeto insomma sono tutti voti ovviamente che dovevo con grande fatica chiedere perché ovviamente c'è il vento della Meloni che ha portato via tutti i consensi però l'importante è aver vinto come centrodestra io sono contentissima che Giorgia Meloni sia il presidente del Consiglio perché confido nelle sue qualità di donna ma soprattutto nella sua politica che viene dal basso perché lei in realtà ha iniziato veramente quando era una ragazzina è cresciuta mano a mano pur mantenendo un profilo di opposizione lei è riuscita a farsi capire ad entrare laddove l'elettorato perché non dimentichiamo che poi c'era la questione ovviamente del reddito di cittadinanza che comunque lasciava un attimino interdette le persone dice no ma Giorgia Meloni ci toglierà il reddito e invece Giorgia Meloni con grande capacità è riuscito a vincere le elezioni portando con sé una schiera di parlamentari tra cui anche due locali quindi Costanzo della Porta senatore e l'onorevole Elisabetta Lancellotta quindi tutto questo ci lascia ben sperare però dobbiamo sempre avere gli occhi aperti perché purtroppo il Molise va un po' controcorrente quindi dobbiamo fare davvero attenzione perché anche Isernia Isernia avevamo vinto le elezioni e poi invece purtroppo si sa è sotto gli occhi di tutti quello che ha Sono dinamiche del voto diverse perché se Isernia al centro-destra si fosse presentato compatto avrebbe vinto il primo battuto con oltre il 62 63% però avevamo anche il sindaco di Isernia Allora volevo fare questa domanda Calenda quindi lei si candiderà con i centristi quindi è già chiara la sua collocazione politica per i regionali o potrebbe tornare anche nella Lega guardi perché si vocifera anche che lei possa avere un ritorno all'antico amore Ma vede io credo che solo gli stolti non cambiano idea vediamo allora io l'ho seguita anche nella trasmissione che vedeva protagonista il collega Antonio Tedeschi questa volta non le risponderò voglio lasciarla con questa trepidazione quindi vediamo devo capire un po' di dinamiche dopodiché prenderò la giusta decisione Intanto io devo ringraziarla perché so che ha delle linee di febbre quindi stare qui con noi a quest'ora quindi a discutere di politica di temi che naturalmente terranno banco nei prossimi mesi le fa onore io la ringrazio proprio per essere stato qui con noi Calenda brevemente ora una domanda a tutti e tre il centro-destra se unito vince se si divide perde come è accaduto a disegna parlante velocissimo abbiamo avuto la prova la riprova che il centro-unito quello dei diserni è la testimonianza autentica che separati si perde non commetteremo lo stesso errore per ovvi motivi prima di tutto perché le elezioni regionali obbligano anche a un coordinamento da parte dei partiti nazionali maggiore rispetto a quello che si fa per le comunali e quindi sono fiducioso e poi perché noi abbiamo come dire la responsabilità di governare la nostra regione di continuare a fare quello che stiamo facendo quindi non ci saranno spaccature e tutti quanti noi non possiamo che auspicare voglio chiudere con questa di trovare nel nostro interno candidati che superano noi stessi io sono contento se tutti i candidati di Fratelli Italia io arrivo al 21esimo posto e tutti hanno preso più voti di me questa dell'unità la sarà da seguire di Lucente? sicuramente il centro-destra deve andare unito però dobbiamo dobbiamo stare molto attenti perché analizzando bene i numeri delle politiche oggi come oggi abbiamo quasi gli stessi voti centro-destra e centro-sinistra se il centro-sinistra va unito ai 5 stelle quindi naturalmente il centro-sinistra è tutto il campo larghissimo partendo anche con l'azione Italia Viva perché se non c'è l'azione Italia Viva sono sempre quei voti quelle migliaia di voti che vengono a mancare allora in Molise i numeri senza azione Italia Viva che hanno preso il 4-5% stiamo sul 43% i due schieramenti 43-44% abbiamo preso di più scusami Andrea anche con Italia Viva facciamo maggioritario anche se Italia Viva fosse andata dall'altra parte oggi come oggi però dobbiamo stare sempre molto attenti bene comunque sarà una campagna elettorale che è già iniziata comunque da oggi fino al 25 giugno c'è ancora tanto da dire Calenda l'ultima domanda non le chiedo dove si schiererà ma sarà della partita questo ce lo può dire con entusiasmo sì sì sicuramente ma le pare che posso perdermi le elezioni regionali io sono sempre candidata diciamo che diciamo che mi metterò in gioco e poi saranno gli elettori a valutare quello che ho fatto il mio operato e quant'altro vi ringrazio il tempo è scaduto grazie all'assessore Quintino Pallante ad Andrea Di Vicente e al consigliere regionale Filomena Calenda che potrebbe anche ritornare ad essere assessora il tempo ce lo dirà è galantuomo grazie comunque per essere stata con noi la prossima settimana grosse sorprese grossi nomi politici qui nei nostri studi sempre a parlare di regionale di problemi delle grandi città del Molise non solo del Molise ma anche dell'Abruzzo perché ormai siamo ben radicati anche in buona parte del territorio abruzzese grazie per averci seguito a voi tutti una cordiale buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti